sono in un nuovo mondo tutto quanto pazzesco e qua vedo che c'è una sorta di mistero di segreto e anche lì avevo visto più avanti tipo una sorta di mistero che magari continueremo in un altro episodio ma prima occupiamoci di questo posto allora sembra veramente molto molto strano allora qua sembra esserci un tubo che preferirei non spaccare perché secondo me avete visto qua praticamente si può uscire e andare da questa parte allora qua ai miei occhi vedono delle catene vabbè è tutto quanto interessante e delle paperelle io questa qua me la porto perché è molto carina lei sarà la mia compagna di viaggio e altre cose vabbè insomma e cos'è questo coso come si va avanti ah avete visto questo era tipo una sorta di pressure plate che ha fatto aprire questo posto e questi mi sembrano effettivamente degli ascensori una stanza veramente strana con tipo tutte queste cose qua boh vabbè andiamo avanti allora qua ci sono sempre delle classiche cose vedete questi muri perché sono costruiti così? sono strani e poi qua io vedo segreto di A allora mi sa che il mostro qua è alfabet lore allora io qua vedo che c'è una leva e c'è anche una spada in diamante il che mi fa preoccupare allora la spada in diamante direi di metterla da questa parte e la leva la metto qua chissà che segreto nasconde A però effettivamente sono proprio curioso di vederlo beh però scusami io come faccio ad andare ah forse se vado lì posso sbloccare il muro ok sono sopra perfetto ok oh mio dio questa qua è la C vedete? cioè più o meno in realtà non ho capito perché è così strano però effettivamente qua ci dovrebbe essere il segreto della C vediamo allora questo è un libro che non riesco a leggere perché amo la lettera A oh mio dio questo è il segreto della C dunque la C ama oh mio dio che cosa che cosa che cosa che cosa interessante bene spero di poter continuare a capire quali sono questi segreti di questi mondi così strani o scuri grazie Grazie.